Oh Elvis, tu non hai idea mettere il motion blur a 100, no fra è qualcosa di indecente Ebbene gentili signori, la clip che state per vedere ha richiesto a me Elvis esattamente due ore filate di gioco Quindi vi prego di abbastare questo sforzo inutile che abbiamo fatto Grazie a tutti Gli mostriamo chi ha fatto perdere fin prima Ok, maledizione della caduta iniziale, direi che scongiurato Si, 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 si Quanto sono contento, e questo si tiene Adesso si corrompe il file No, non più Ronny E ho anche fatto la kill Ronny è finita Che senso? Ho messato un blocco Mannaggia a te Ah, ma guarda che l'altro blu è feccato Grazie amico Forse chi mi guarda da casa non può capire Ma sono contentissimo Finalmente Quanto ne dobbiamo fare? 5 Adesso posso dormire, vado tranquillo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti